L'impatto sarà drammatico per le prenotazioni aeree, soprattutto per quelle che riguardano L'Italia. Ecco perché l'Air Transport Association, IATA chiede di bloccare fino a ottobre le attuali regole sulla location delle slot che impongono ai vettori l'operatività di almeno l'80% delle fasce orarie disponibili, pena la perdita dei diritti. Paletti quasi impossibili da rispettare in un clima di emergenza che ha spinto ieri a una nuova stretta sui voli verso il nostro paese. Perché anche dove non c'è la preoccupazione per il difondersi dell'epidemia, come negli USA, c'è la necessità di adeguarsi al crollo della domanda. Dopo gli stop ai voli per Milano di American Airlines e Delta, corredgono voli l'operativo Ryanair, cancellato fino al 25% dei voli italiani a breve raggio dal 17 marzo o l'8 aprile, l'ATAM, sospesi i voli tra San Paolo e Milano fino al 16 aprile, e Lufthansa, che con Brassals Airlines e Austrian Airlines ha ridotto frequenza dei voli e posti disponibili. Ma c'è anche l'Uzbekistan Airlines a sospendere i viaggi per Roma. Stessa rotta con voli ridotti aveva già imboccato British Airways, in linea con Turkish Airlines e Iberia. Nuove perdite da aggiungere a un bilancio già pesante. Basti dire che l'aeroporto di Fiumicino ha in bilancio 50.000 transiti in meno da gennaio. Perfino all'Italia è costretta a una dieta su 38 rotte. Una fotografia amara del turismo andato in fumo e anche di quello potenziale delle prossime settimane di fatto compromesso. La cartina di tornasole dei numeri impressionanti che da giorni denunciano alberghi, tour operator e agenzie di viaggio. Gli ultimi dati sulle settimane bianche non sono che la conferma.